Abbiamo un pagliaccetto messo lì, che fa tutto entro il 25 di maggio, tutto dopo il 25 di maggio. Abbiamo questo voto di scambio che fa lo Stato, un voto di scambio, gli 80 euro. Cambiano le parole, cambiano le parole alle leggi, 80 euro è un voto di scambio, 80 euro è da vergognarsi, diminuiscono l'IRP e poi aumentano le tasse regionali e comunali, tolgono le province e non è vero. E voi fate dei titoli e abolite le province, non è assolutamente vero, lo sapete benissimo. Il 416, volevo ricordarvi che è la più grande vergogna di questo Paese. Sarà votata oggi pomeriggio, io andrò là a vedermeli in faccia questa gente qua, perché io voglio vedere chi vota queste cose qui, voglio vedere perché il PD è tornato sui suoi passi, voglio vedere perché hanno ricevuto 2 milioni di mail e non hanno fatto voto, voglio vedere perché Casson non dice niente, voglio vedere perché, voglio capire il perché. La fine di queste persone che hanno condotto l'Italia al disastro, che sono state importanti, parlo di Berlusconi e Dell'Utri, Dell'Utri è lì, sappiamo benissimo e sapete bene che non tornerà mai, forse è pericoloso, la sua tornata in Italia può essere pericolosa per lui, quindi non lo so. Però è uno che ha traghettato la mafia attraverso Publitalia, attraverso Forza Italia, con il riciclaggio di Danaro, è stato condannato e questa fine miserabile che farà, una fine scappare, non sono neanche uomini a venire tornare e dire sono qua, mettetemi in galera, questo ometto che fa mezz'ora, mezza giornata alla settimana, è una fine ignobile, neanche da uomini, io sarei andato in galera, avrei fatto un discorso e mi sarei fatto arrestare e mettere in prigione. Questi non sono neanche uomini, fugono, cambiano le leggi, si vedono nascosti con Renzi perché io ti modifico il codice penale con il 416 inter e tu poi mi dai il tuo appoggio per le riforme che voglio fare, finte, noi vediamo i documenti, non c'è nulla di scritto, noi vediamo il job act, noi vediamo che i soldi si prendono di qua e si escono di là, non c'è nulla di scritto, ci sono delle sparate in televisione, sparate sui giornali e poi andiamo a vedere.